Sì, in settimana iniziano i lavori del nuovo comune in legno a Montecchio di Vallefoglia che ci consente di non avere più quattro sedi, Sant'Angelo, Colbordolo, Morciola e Montecchio e di avere una struttura nuova, d'avanguardia, con del risparmio anche nella gestione una struttura predisposta su tre piani, a fianco alla Casa della Salute, il centro commerciale e a fianco anche, anzi di fronte, alla Scuola Federico da Montefeltro una struttura molto importante con tutti i servizi a piano terra, diciamo, dalla sala consigliare a tutti gli uffici di primo impatto nell'opinione pubblica dei cittadini, nelle prime necessità e quindi in un annetto, diciamo, che per Natale prossimo, non questo ovviamente e dovremmo avere il comune nuovo e quindi è un'opera importante, strategica per l'insieme della vallata perché, insomma, Montecchio è il cuore di tutta questa vallata a prescindere dai confini amministrativi. I lavori non si fermano qua perché proprio in questi giorni aree della città di Vallefoglia di Montecchio sono state illuminate con nuove luci. Sì, sono ultimati i lavori in Piazza della Repubblica, la sostituzione delle vecchie lampade gialle con delle lampade a LED, bianche, che illuminano meglio la Piazza della Repubblica, l'illuminazione del Parco Enrico Berlinguer, lungo Foglia, ben illuminata e il Parco, diciamo, Volponi a fianco alla chiesa di Montecchio sono, diciamo, due parchi più sicuri, più illuminati, più fruibili appena passerà questa vicenda del Covid Piazza della Repubblica, il cuore della vallata, ben illuminata abbiamo previsto altri 100.000 euro per renderla ancora più accogliente quella piazza nel piano delle opere pubbliche e poi, diciamo, il Piazza dei quartieri che ancora devono iniziare i lavori e poi dei lavori che devono fare ancora sempre di illuminazione nel viale che va verso Piazza della Repubblica e verso la chiesa e quindi sono veramente, ecco, due parchi e la piazza più sicuri, più carini, più illuminati e più fruibili, diciamo, in futuro quando le condizioni del Covid lo consentiranno quindi Vallefoglia continua con una serie di opere pubbliche importanti che si intrecciano a quelle private che ci fanno dire che è una città cantiere che crea lavoro, occupazione, prospettiva futura stanno ultimando in questa settimana anche i lavori della ciclo pedonale sarà anche essa illuminata basta guardare di sera, io sono passato ieri e quindi diciamo che, insomma, più illuminazione, risparmio energetico perché le luci a led sono anche per risparmiare e migliorare l'illuminazione, la fruibilità e anche la viabilità renderla più sicura Grazie a tutti